...del cinquantenario del Paglio dei Castelli. Benissimo! Allora, siamo pronti! 10 secondi al via! Ecco che ci siamo, pochissimi secondi alla partenza. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2! Eccoli che sono partiti! Sento metti con partiti! Vai, vai, vai! Sento metti il carrello, chiedito dalla ciocca, tornate! Sento metti il carrello, facciata in terza posizione, vai, vai, vai! In terza il carrello, chiedito da Ciamadeo, facciata in terza posizione, chi diceva? Sento metti il carrello, sono ancora tutti assieme, eccoci il primo cambio! All'altezza delle scuole! In terza il carrello, in terza il carrello, nettamente in... In prima posizione, seguito dalla Ciamadeo, facciata in centro metti tutti assieme, però il carrello ha preso nettamente il via, ha preso nettamente il margine di vantaggio, è nettamente in testa, quando ci siamo per avvicinare al terzo cambio, in prossimità, forse, scesa in testa il carrello, carrello, eccoci qui, primo cambio, è peccato, carrello sempre in testa, in questo momento, per il cambio, la ragazza, seconda posizione, è nettamente distanziato, in questo momento ci sono i cambi, Ciamadeo, Parcetta, centro storico, guardate Carelli, ci sono tutti ancora, tutti insieme agli altri rinoni, il Ciamadeo ha fatto un leggero margine di vantaggio, però in questo momento stanno recuperando, stanno recuperando gli altri rinoni, si stanno avvicinando, sono tutti vicini, eh! madonna in campagna in seconda posizione, Ciamadeo in terza, Carelli in questo momento in testa, Carelli cambia, anche questo è il terzo cambio in testa, ma raggiunto dalla madonna in campagna in questo momento, seguito da Ciamadeo, è nato il centro storico, inizieva, sono tutti vicini, però Carelli sta prendendo ancora qualche margine di vantaggio, è ancora in testa, ha una decina di metri di vantaggio, su Ciamadeo, che in questo momento è superato dalla madonna in campagna, madonna in campagna in questo momento in seconda posizione, e ci sto avvicinando al Carelli, quando stiamo all'incirca del terza del quarto cambio, sempre Carelli che cambia in testa, ecco Carelli in questo momento cambia, seguito dalla madonna in seconda posizione, seguito da Ciamadeo in terza, guardate, c'è un torsorio di Patilisea, Falcetta ci sono ancora tutti vicini, Carelli però sempre in testa, un leggero margine di vantaggio, seguito dalla madonna in campagna, Ciamadeo in terza posizione, c'è un torri con parta, Falcetta, e tutti gli altri sono tutti a più via, soltanto è un peso leggero a margine, Carelli e madonna in campagna, e aspetta tutti gli altri regioni, Carelli, al punto cambio, Carelli, sempre in testa, Carelli è a 5 metri, 10 metri, praticamente prende il cambio da madonna in campagna, madonna in campagna, sentito da Ciamadeo, cittor storico, Ciappa, Tivisera, Falcetta, con tutti gli altri, sono i primi due regioni che ha preso un margine di vantaggio, per quanto riguarda le posizioni di rincasso è tutto da stabilirsi, ecco ancora la curva, quasi appagliati, Carelli e madonna in campagna, che stanno accettando il testo canti, sempre Carelli e madonna in campagna praticamente appagliati, Carelli e madonna in campagna appagliati, seguiti da Gornate che sta recuperando le canizze, Gornate in seconda posizione, Gornate stanno a desigliare la prima posizione della madonna in campagna, ecco Gornate, nessissimo recupero la Gornate della madonna in campagna, hanno preso un leggero margine di vantaggio su tutti gli altri, sempre madonna in campagna in testa, seguito da Gornate che Gornate sta infigliando la posizione della madonna in campagna, Gornate è passato in testa, Gornate è una bella campagna, appagliati ancora in questo momento, Gornate in testa, Gornate è nettamente in testa, la pietra dell'ultimo cambio, Gornate è passato in testa, seguito da madonna in campagna, che è un leggero margine di vantaggio, il centro storico, facciate di risalto, maveri tutti appagliati, Gornate è un leggero margine di vantaggio, guardate è il leggero margine di vantaggio, giusto dalla madonna in campagna, che è un leggero margine di vantaggio, è passato in testa, la pietra dell'ultima cosa è passato, La verità è passato, la verità! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.